E' un momento di sosta, approfittiamo della presenza del direttore generale dell'inizio calcio Paolo Giovannini per fare il punto della situazione. Intanto abbiamo dato un bel 7 alla sua squadra, lei concorda con questo voto? Sì, ma mi aspetto molto di più nel giro di torno, sicuramente in termini di classifica visto l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, ma anche come complessività nei punteggi, anche come complessività nel rendimento dei giocatori della nostra rosa. Questo sì, ma aspetto sicuramente un salto di qualità della squadra. E da domani si apre il calcio a mercato, lei ha già annunciato l'arrivo di tre calciatori, una punta centrale, un giovane classe 2004 sulla fascia destra e un centrocampista. Tanto, andiamo subito al sonno, il nome del centrocampista è Noto Erduini, quando pensa di poterlo mettere a disposizione di indiani? Stiamo parlando con il Fiorenzo Ola, loro sono detentori del cartellino, è normale che stanno facendo le loro valutazioni se tenerlo o no, il ragazzo ha manifestato l'idea di andare a giocare, da noi verrebbe volentierissimo. Aspettiamo il placet del Fiorenzo Ola, è chiaro che è un giocatore che a noi farebbe molto comodo, perché ha caratteristiche diverse sia da Bianchi che da Damiani, è un giocatore in grado di riempire l'aria, di entrare dentro, quindi di risolverci anche qualche situazione in fase offensiva, dove siamo stati molto carenti, soprattutto anche per non aver sfruttato al massimo questo riempimento d'aria, che spero che un giocatore come Arduini, quando sarà chiamato in causa, ci possa dare. Senta, direttore, il fatto che cercate un giovane classe 2004 a destra, significa che Puggesi resterà ancora a sinistra? Ma quello vediamo intanto, se prendiamo a destra o a sinistra non è quello l'importante, è importante aver battezzato insieme al mister e allo staff un under 2004, che possa fare l'alternativa a Pericolini, vista l'uscita di Dema. Poi naturalmente dobbiamo completare la rosa con un difensore, vista l'uscita di Bruni, e naturalmente riempire il vuoto lasciato davanti da Diallo. Oggi siamo cinque giocatori per tre posti, è normale, bisogna arrivare a sei numericamente, però ecco ci tengo a precisare che ho grande fiducia, si parla spesso di mercato, perché naturalmente ci si aspetta sempre di dover e di poter migliorare la squadra. Noi pensiamo di poterlo fare avendo lasciato partire alcuni giocatori che avevano poco minutaggio o che non giocavano con grande continuità e magari prendendone alcuni che credo che possano rientrare maggiormente nelle rotazioni del mister. Ma questo impianto di gioco, questa struttura e la fiducia con questi ragazzi non la voglio cambiare, non voglio nemmeno farmi prendere dell'ansia, dall'angoscia dei tre punti di distacco della Pianese quando mancano 17 gare. Sono straconvinto che i nostri cinque davanti, quattro esterni più Gucci, possano rappresentare, secondo me, un fiore all'occhiello per questa categoria. Andremo a incrementare questo reparto, è normale, perché anche numericamente, visto che abbiamo anche l'impegno della Coppa, è giusto che sia così, ma confermo la grande fiducia nei nostri quattro attaccanti esterni, soprattutto in Gucci, come punta centrale, sperando che naturalmente i quattro esterni ci diano un contributo maggiore in fase realizzativa, ma sono giocatori, a mio parere, che è difficile trovare in categoria e tendo più a valorizzare quelli che ho che andare a cercare altri per sostituirli. Insomma, per vincere bisogna prendere nove? Non ho capito la domanda, scusami. Avevano iniziato con il 7 e la fine del giorno di andata. No, credo che basti a fare 7,5-8 e credo che occorrono 75 punti, 74-75 punti, dobbiamo sicuramente fare meglio, visto che abbiamo girato a 34. Questo è il mio punto di vista. Poi, altra cosa fondamentale, sarà naturalmente, come ho detto ai ragazzi, rinnovargli la fiducia che ho io e che qualcuno di questi possa alzare il loro rendimento. La squadra, a mio parere, non ha espresso nei singoli, mentre magari nell'impianto di gioco, nel vedere giocare la squadra, tutti ci fanno i complimenti, ma bisogna essere molto più concreti, molto più decisivi e questi ragazzi possano farlo.